si apre l'udienza pubblico ministero domando di parlare presidente favelli pure pubblico ministero nella compilazione del verbale malgrado tutte le solerti cure di questo illuminato tribunale si omisse un dato che conviene sapere ecco quanto è sfuggito al cancelliere misura della fava dell'accusato periferia centimetri 28 superficie un centimetro quadrato lunghezza membro poi dita 18 segni particolari all'occasione un grosso neo sull'orlo del cornicione prego notare questi connotati relativi può dirsi al vero attore e già dai testimoni confermati in presenza del giudice istruttore presidente è giusta e saggia questa osservazione appartiene alla misurazione parte civile domando di parlare presidente favelli pure parte civile la famiglia del bimbo rinculato ritrovandosi offesa nell'onore non intende ragione dell'accusato e vuole un indizio del priore chiede quindi che le sia pagata mille lire ogni rovinata presidente come se non bastasse il lavorio che già si è fatto intorno alla questione e degli avvocati il bugerio mancava la civile costituzione favelli pure ma stia attento all'anno che l'imputato non le sta lontano parte civile le risultanze del processo ci portano a una sola conclusione l'aula dove noi siamo non è che un cesso che presidente avvocato faccia il puritano parte civile se crede parlo con la fava in mano presidente la fava ecco facciamo capire se la giri del culo mondo villano parte civile allora lei mi faccia proseguire se non vuol si finisca in un impantano io qui mi trovo per casaccio ne son venuto per fare il mischeraccio insisto nel voler dimostrare l'influenza che può portare l'ambiente sui giudici presidente non può continuare parte civile mi lasci proseguire sor presidente presidente ma no lei fa troppe disgressioni parte civile e lei rompe un po troppo ai coglioni dunque dicevo come questo ambiente dove regna dovrebbe castità che che ne dica il dottor presidente c'è un grappuzzo di brodo di baccalà per cui data quest'aria che vi ispira par desse un casino da mezza lira fatta questa mia breve disgressione entro tosto nel cul del mio cliente facendo questa mia interrogazione appunto è stretta è largo presidente manda poi serpente questa è di nuovo conio l'avvocato va già nel cul del suo raccomandato senza se mi fa un'altra intorsione io smetto immantinente di parlare che ci sto a far qui forza e coglione oppure la questione è alluminare parte civile sono nel culo e quindi in argomento orbene il mio discorso proseguendo dirò che il mio cliente disgraziato da qui presente poco reverendo a tutto il tafanario rovinato tal che al vederlo voi direte qui c'è passato il ciucco di babì e come il culo ormai tradizionale il pingue prete aggrossa la cappella dato che io ribiede il tribunale di cui li feci più di una padella e fra questi delitti ve lo rendo consumato sul bibo che difendo tra le natiche fresche e rotondette di questi penetrando con furore il cazzo di quel prete si fa in sette e la fama sfiora lì il panacuore riducendo a quel povero figliolo come si dice il cul come un paiolo per cui miei signori della legge dal direttare del cliente mio esco sì spaventevo di scorreggere e sembra il castigo del buon dio e mi affermò poc'anzi una cugina che quando incacca ottura la latrina ma c'è di più illustrissimi signori trovandosi l'altro il mio cliente con altri suoi compagni a caccare fuori fece uno stronzolone sì potente che senza esagerare sarebbe stato per la sua altezza idoneo soldato naturale la piccola canaia il sottosto su quella colonia non il tradizionale fusciano di paglia con la destra metà la fogliolina ma addirittura un lungo e bel bastone con in cibo il giornale la nazione un'altra volta poi si era purgato fece nella latrina della scuola un iscremento così prolungato da renderla presidente le tolgo la parola scusi lei parla a magistrati o a cinque bocchinai matricolati parte civile la vecchia madre del bambino è ricorsa a un bellissimo espediente quando mi senta roba l'intestino che vuole uscire precipitosamente a letto te lo cuore cabocconi e fa chiamare gli uomini del cioni questi arrivati con la ferie a botte mettono nel culo al bimbo un gran canale poi girano i manubri buonanotte passa il liquido come è naturale vi è votato il povero piccino come se fosse un semplice bottino ora domando perché quella ieri invece di sciuppare un bel bambino non andò in culo al povero sostena che ha il culo largo al pane di un cattino perché quell'urido inumano se voleva delle nuove sensazioni diciamo così non si ricorda il celebre scrivano a farsi leccare fava e coglione là il suo furor ibrido e canino poteva sfogare con un bel popino poteva andare dalla gentildonna che ha le chiappe turgide e pastose e là per la santissima mia donna poteva crogiolarsi in mille pose a porta indietro aveva il culo a pozzone che certo è la più bella posizione non basta se voleva farsi leccare si doveva impostrimore leccare dalla punta dei piedi fino ai capelli in cerca di espertissimi budelli difensore ecco se mi permette l'avvocato vorrei fargli una breve osservazione sento che ci dà tanti indirizzi manca solo che il cazzo è la o dà di ruffianismo una lezione lei qui difende il suo raccomandato parte civile ma per questo carissimo collega c'è la sua distintissima signora per questo la quale ha fatto già più di una segna e posso assicurarla che lavora con una grazia tutta affatto nuova come se avessi in mano un frullo uova va ritornato al triste delinquente egli vuole provare il buco stretto è ferrato è ferrato appunto un povero innocente disse tieni all'occhiello un fiortimento ed il fiore sono due teste le parole non era una gagia ma un girasole e notate illustrissimi signori assicché ho le tori che figura essere esagerata dai colori invece ha resa bene addirittura perché mi è risultato da un'inchiesta che la fame del prete è una cesta l'egregio difensore muova le spalle il segno di Diego sì ok non ci crede sì ti faccio un po' sfiorare dalle palle del prete e poi vedrà sulla sua fede no se la faccia accarezzare lei io vado sempre nel culo e porto sei presidente ma signori porcissima miseria se seguite anche così proprio davvero si va a finire in una cosa seria ora sappiatelo qui non c'è che piero che va nel culo fuori di quei miei cari in culatevi pure siete parte civile come dicevo da una scrupolosa inchiesta fatta già con ogni ganza il riputato sta venendo una cosa che tutti hanno come questa stanza dell'ora culo e di oh fica ha fatto una sola cosa inaudita dopo signori del tribunale dimostrata la brutta infermità che un cazzo ma soprannaturale ecco produsse al mio cliente si verrà all'accusato animalesco prete la pena che voi giusta applicherete certo che la giustizia sia clemente spero che il vecchio il sorio motto quel motto che dice restar senza quattrini e il culo rotto o vorrete affibriare al mio cliente allora sono certo che pronuncerete una sentenza quasi vuol severa altrimenti voi mi obbligherete a portare le mutande di lamiera perché lo vò trovandovi a girare sentirmelo nel cuore invogare presidente uditi dunque i pochi testimoni dell'attual delitto consumato d'un prete che va in cul fino ai coglioni ad un giovane saggio e costumato uditi i lagni della parte lese io lascio la parola alla difesa difensore aula solenne nel mirarti freme di maestosa riverenza il petto inclini membri qui riunite insieme il nobil vostro venerando aspetto tanta tema mi infonde al tal ribrezzo che fin l'uccello mi rientra in mezzo però si ovesto di mentite spoglie quando di verità la lingua espone per gran tema della mia questione tema che il testo appella sodomia il diletto vulgar cul rotteria e se di questa tendenza carnale pronunciar non saprò retto giudizio pensi benignamente il tribunale che in materia di cul sono vizio di fatti fuori e qui mi son difeso e grazie al cielo non ce l'ho mai preso e a te giove lascivo del cogiale e della sega protettor famoso nelle campagne dell'amor carnale tanto costante e tanto vigoroso che nel lasciar questa valle beva sbrodasti in mano al prete che tugeva e voi voi pure qui sommesso imploro dell'arcadia fottenti e rifottenti anacreonti dalla fava d'oro tra l'arpa e il culo alla virtù crescenti che sfacciati levando inni al pudore fate rosso l'uccel del mio candore scusate scusate tutti allora torno vizio pavido innanzi cotanta sapienza e se il favor vostro mi sarà propizio mostrerò con la storia e con la scienza che il metterlo in culo in conclusione l'organo aiuta per la digestione era quell'ora in cui sotto velate spoglie ratti si muovon chiassuoli e per far salienti e bui e cantonate ciambellani mutati in culaioli l'ora in cui l'uomo percelate e più volentieri fra le porcherie all'ombra di un amenissimo boschetto il prete scula ciabuchi di Firenze stava sdraiato con un giovanetto caro caro già a lui per varie contingenze e tra l'indice e il medio dolcemente il ganascino gli stringeva sovente non vi dirò con i vidi colori la soave beltà di quella dune per tema di destarvi o miei signori quando non sia già tardi l'erezione e con tal dubbio non del tutto strano mi portò al culo la sinistra mano per far la corta vi dirò soltanto che quella biga sveglierebbe un morto dunque a tenore dell'accusa in atti pare che questo prete in conclusione dalle carezze divenisse ai fatti e con l'uccello fuori dal calzone cominciasse a votarsi a manca e a dritta come giovin soriano a codarit questa questa accusa la sciva non ripete i morsi i baci le carezze impure dice tra l'altro che l'astuto prete strofinando l'uccella alle costure del tenero garzone lo appellava coccolo della sua paterna fava ecco dice alla fine che rotto ogni freno simile al vento in tutte le tempeste ardisse dilatargli in un baleno le 35 tenerelle creste versando in culo al giovinetto vago non brodo ma gomitoli di spago questi sono gli episodi tali e quali e l'accusa oggi appella sodomia gli episodi innocenti e naturali che a raccontarli in una frateria veda trovarsi come il cane all'osso i frati tutti il provinciale addosso lasciando lì le chiose dei dottori col buon senso alla mano e la ragione in primis io domando a loro signori se sodomia la cronaca in questione chiamarsi possa e ammesso il postulato se il metterlo in cul sia peccato dieci dita di muscolo virile ribeccato col visto del priore formano in ogni società civile un nodo indissolubile d'amore però nel libro della creazione di questo vizio non si fa menzione ora se due persone anche pulite si mostrano in campagne per le vie tra un discorso e l'altro incalorite va fanno dirò così le porcherie o come c'entra l'arbitro l'arbitro del fisco queste signori miei non la capisco ma si dirà che nel presente caso non si tratta di copula sessuale celebrata tra sesso differente bensì di confusione innaturale ossia di messa all'uso pecorino tra cittadino maschio e cittadino risponderò che della congettura il creatore non se ne è occupato vi sfido a trovare nella scrittura un passo in cui il culo sia citato sarà per pudicizia ma per me è una ragione logica cioè che il cazzo non ha gli occhi già si sa onde c'è ragione sufficiente di farne un caso di moralità se il cieco sbaglia il buco di un ambiente ecco per ascriverlo a colpa bisognava che avesse gli occhi anche alla fava e molto di più nel caso femminino signori e dove i due buchi stanno così vicini che chissà quanti mai si sono sbagliati e quanti mai i mariti in capo all'anno vanno e rivanno in culo e non lo sanno ma cresce via più la meraviglia ripensando alla carica meschina che il culo rappresenta anche in famiglia dove gli han dedicato la latrina e alla scienza e alla scienza che quei suoi misteri gli consacrò la canna dei appunto i cristeri ecco comunque non ne cambia la natura serbata dal destino all'orinale anzi rende più strano addirittura che l'uomo confonda lo spirituale con gli escrementi e faccia dell'amore una partita di cattivo odore in conclusione questo questo mistero non ha colpa di capacità prima di mettere un voto con criterio esaminiamo con serenità le prove e i documenti di ragione dall'accusa portati in discussione dice una testimone non sospetta d'aver visto a quell'ora l'accusato a pancia all'aria sulla molle erbetta col cazzo dalle brache spenzolato la cui fava sono le sue parole le proporzionava ad un girasole l'accusa alza la voce ai 420 e vuole da quel despota ogni ragione ma siano giusti giudici sapienti che cosa prova questo testimone per me se si vuole essere imparziali prova due cose sole ecco quali che il mio cliente Dio lo benedica così di un cazzo da museo romano e che in pace in quella sera in quella sera amica se lo tenea frescheggiando in mano rifugio per la legge competente per la legge ad ogni cittadino indipendente piuttosto e qui ne tocca la morale io sono d'avviso che la donniciola crede anch'essa del pomo fatale visto colà per quelle verdi aiuole se quell'alma balenar fava dolcina si tirasse a un sega adulterina un altro testimone innamorato racconta di aver visto due compari uno sopra dell'altro accavallato precisamente come due somari ma non dice peraltro il sempliciotto qual ne stesse di sopra e quale sotto nel dubbio qual dei due fosse l'attore potrebbe il mio cliente con ragione prendere il posto dell'accusatore tanto più che sia detto in confessione un perito dell'arte gli ha trovato la madre vite del culo un po' spanata un terzo testimone un giovinetto udì un certo respiro assai affannato uscir di mezzo a quelle verdi fronde come di gente stitica che ponde ecco prorompe il difensor fiscale la prova del flagrante atto funesto ecco ma qui faccio osservare al tribunale che chi riceve un membro come questo nelle fragili parti dei retani non ponde ma guaisce come un cane quando sia l'orifizio delicato dica lei presidente per favore racconti quel fatto disgraziato allora quando nel mettersi a sedere inciampò dio ne guardi in un fuscello e dico un po' che spasimo fu quello queste 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 le prove dell'accusa questi del supposto reato documenti a voi pertanto magistrati onesti spetta di giudicare se sufficienti ma prima di risolvere l'argomento da ascoltarvi prego un solo momento sia per effetto di gravitazione sia per certa libidine intuitiva fatto è che l'uomo sente inclinazione a fare le porcherie di prospettiva divertimento che almeno a meno tra noi costa un fottio dal matrimonio in poi ma vista che l'uscita di famiglia supera l'entrata quotidiana l'uomo cui spesso economia consiglia passò da mezzogiorno a tramontana e fatto un giro con lo stesso metro invece che davanti andò di dietro e chi non sa di voi che quella gente invece di segnare le cose sue nel taccuino o di tenerle a mente si faceva guisa che una donnicciola una coca faria la pezzola si legge di Golia che assediato si mettesse a pisciare incautamente dai merli di un bastione fortificato ma se ne avvide la nemica gente e gli si avventò sul cazzo con destretta con destrezza chiedo scusa montò di sopra e prese la fortezza e adesso era così lungo la vea che a pisciardi sul tetto era forzato e per di sotto i servi suoi in livrea col pugno tenevano obbligato in modo che veduto alla lontana un condotto parea d'acqua piovana ecco a questo lusso di muscolazione aggiungi un pizzicor senza misura che le nipoti del pio salomone nei cavi possedea della natura anzi a quanto ne dissero gli scrittori di troppa voglia pativan fuori agar invece benché la storia taccia invasa da una dia febbre uterina già urlando per il deserto in traccia di una persona fava adamantina sarò dopo averne fatte trenta stanca forse dicea ma non contenta certamente il calor di quelle donne procedevano gli scoli a segno tali che il sindacato dell'invitazione in mancanza di visita fiscale la ponte più sane per controllo applicava sopra un francobollo